Trolle con presunte scritte BR e gli atti trasmessi anche alla procura distrettuale di Firenze. Trolle con presunte scritte BR e gli atti trasmessi anche alla procura distrettuale di Firenze. Il sindaco Biffoni parla di clima fastidioso in città. Ascoltiamo. È stata trasmessa anche alla procura distrettuale di Firenze la notizia del ritrovamento di un trolley sospetto rinvenuto sotto il loggiato del comune di Prato da un agente di polizia municipale in servizio nella giornata di domenica. La valigia conteneva nella fodera interna due scritte tracciate con la vernice rossa, da una parte una stella a 5 punte e dall'altra la scritta BR, simboli e riferimenti inquietanti su cui indagano gli inquirenti ma che hanno spinto la procura pratese, in particolare il procuratore capo Giuseppe Nicolosi, a informare anche i colleghi di Firenze competenti per eventuali reati relativi al terrorismo. Uno scrupolo in più per tentare di ricostruire la dinamica del fatto anche attraverso le immagini di videosorveglianza acquisite in zona e risalire al responsabile. Troppo presto per dire se si tratti di una bravata o di un gesto di grave intimidazione, non si esclude che l'episodio del trolley possa essere collegato alla scritta minatoria contro il sindaco, Biffoni stai molto attento, comparsa il 20 agosto scorso sulla facciata del palazzo comunale sul lato dell'entrata dell'albo pretorio. Ad aprile, vicino al palazzo dove assede lo studio legale in cui lavora Biffoni, era comparsa invece un'altra scritta contro il primo cittadino con chiari richiami neofascisti. Biffoni parla di clima fastidioso ma ripone fiducia nel lavoro degli inquirenti. Le scritte sui muri, le minacce, adesso questo episodio, dico almeno noi che facciamo politica nel divertimento, nel sale dello scontro, delle posizioni diverse, cerchiamo di mantenere i toni civili, cerchiamo di mantenere i toni il più corretti e nell'ottica pur delle posizioni diverse, della massima tranquillità. Speriamo davvero che siano episodi magari di qualche mitomani o di qualche squilibrato e non una questione organizzata. Cotidianamente sono a giro in città, frequento posti, vado in qua e là più o meno dappertutto e non ho mai ricevuto, ho avuto delle accese discussioni, questo sì, ma in questi anni non ho mai ricevuto minacce particolari né aggressioni particolari, anzi devo dire c'è sempre stato un clima sempre di dialogo, di confronto. Perciò sono tranquillo da questo punto di vista, certo certe iscritte prima allo studio, adesso qua piacere non fanno. La cronaca ha bevuto troppo e forse anche assunto stupefacenti litigando ferocemente con la famiglia della sua ex ragazza, dove l'uomo grazie alla loro ospitalità stava scontando gli arresti domiciliari. È accaduto la scorsa notte in un'abitazione di San Paolo. L'esagitato a un 24enne italiano con vari precedenti ha percorso il fratello e la madre della ex, minacciando anche il padre con un paio di forbici. Per sfuggire alla furia del giovane, il padre e il fratello della sua ex ragazza sono stati costretti a rifugiarsi nell'abitacolo della loro auto, in attesa dell'arrivo della polizia. Gli agenti hanno appreso dalle vittime che il 24enne non era nuovo a gesti aggressivi e ad intemperanze. L'uomo è stato arrestato per evasione dagli arresti domiciliari, minacce aggravate, possesso, ingiustificato di oggetti atti all'offesa e lesioni personali. E cambiamo argomento perché si avvicina il settembre, quindi è il conto alla rovescia per il festival della città, Settembre Prato e Spettacolo. Si comincia giovedì sera con il concerto di Caparezza, tutti i particolari nel servizio di Giulia Ghizzani. Quarto anno consecutivo per il festival Settembre Prato e Spettacolo, organizzato da Fonderia Cultarte in collaborazione con il Comune di Prato. TV Prato, anche per questa edizione, sarà media partner della manifestazione che punta su un format più concentrato. Grande musica nazionale e internazionale, da giovedì 30 agosto a lunedì 3 settembre in Piazza Duomo, dove da alcuni giorni sono in corso le operazioni di allestimento di palco e tribune. L'apertura del cartellone, per cui ci si aspetta il sold out, sarà affidata all'esplosivo Caparezza, che torna in città dopo tre anni con il suo nuovo tour. Si continua venerdì 31 con l'unica data italiana dei The Darkness, un concerto molto divertente di rock, che potremmo definire glam, molto popolare. Il primo settembre è una esclusiva per la nostra città, un concerto molto particolare, che inizierà alle 19.30 e che vedrà alternarsi tre band mondiali. Si comincia con i Blonder e Dead, poi i Deus e a chiudere gli Esturzende nei Bauten. Un concerto per cui sappiamo che verranno diversi spettatori, non solo da tutta Italia, come già accaduto nelle precedenti edizioni, ma anche dall'estero. Il 2 settembre e domenica in Piazza del Duomo, alle 21, invece, ci saranno gli Zen Circus e a Toys Orchestra. E poi concludiamo i concerti a pagamento del festival in Piazza del Duomo, lunedì con Cristiano De Andrè, che canta il meglio dei brani di Faber, compresi alcuni dell'album Storia di un impiegato. Il 4 settembre, sempre a due passi dalla cattedrale, spazio invece al tradizionale concerto a ingresso gratuito della Camerata Strumentale, che non sarà sola per l'occasione. Darà una vera e propria festa in musica, perché assieme agli orchestrali della Camerata al completo, con il maestro Jonathan Webb alla direzione, ci saranno 300 coristi della città di Prato, 160 dei cori cittadini, oltre a 120 bambini appartenenti a cori in gran parte della Scuola di Musica Verdi. Torna poi anche la Piazza dei Piccoli in Santa Maria in Castello, con giochi, laboratori e spettacoli per tutti i giorni del festival fino alle 21. Ma la Kermes prevede altri eventi speciali, disseminati tra la terrazza di Palazzo Pretorio e la Sala Garibaldi dell'Ex Cinema Excelsior. Chiusa ormai da nove anni, questa sarà riaperta eccezionalmente prima della prossima ristrutturazione, nella giornata di domenica 2 settembre. Alle 18 Roberto Angelini e Rodrigo D'Erasmo omaggeranno l'enorme talento di Nick Drake con il concerto Way to Blue. In città gli alberghi hanno dato disponibilità per accogliere il pubblico per un totale di 600 camere. Il costo totale del festival ammonta a circa 500.000 euro pesa ovviamente l'assenza del contributo dello storico sponsor S. Lunga. L'amministrazione comunale contribuisce con 54.000 euro all'ordo e nonostante la mancanza di S. Lunga, la raccolta di sponsorizzazioni, la partecipazione a un bando regionale e l'investimento proprio del concessionario sulla base del bando che il comune ha fatto nel 2016 hanno consentito di mantenere un'edizione di assoluto livello del festival così come anche nel 2019 sono sicuro che sarà. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del ponte della Passerella. L'intervento si è reso necessario per l'evidente stato di degrado della struttura. Per due mesi circa il ponte resterà chiuso così come la pista ciclabile sottostante. Il restyling della Passerella prevede anche l'abbattimento delle barriere architettoniche e ne abbiamo parlato con l'assessore Filippo Alessi. La Passerella ha bisogno di un restauro, ha bisogno di un restauro conservativo, ha bisogno di una riqualificazione dei parapetti perché se andate a vedere attualmente ci sono dei tubi innocenti che sono stati posti perché i parapetti originari erano pericolanti, ha bisogno quindi di una revisione dopo tanti anni e ha bisogno di una riqualificazione. Sarà chiaramente anche l'occasione per dargli una veste nuova, chiaramente il progetto passa dalla sua intendenza, per noi sarà anche l'occasione per dare un'immagine diversa alla Passerella e per abbattere le barriere architettoniche. Il primo intervento è il restauro della Passerella, poi l'intervento sui due lati per l'abbattimento delle barriere architettoniche per permettere ai portatori di handicap di attraversare questo punto che alla fine è un punto importante della nostra città perché collega il centro storico con una parte importante della città. Quanto dureranno i lavori e a quanta monta la cifra? I lavori dureranno due mesi circa e saranno, lo dico, un po' invasivi nel senso che chiaramente per la durata dei lavori sarà inibito il passaggio sulla Passerella e quindi questo creerà disagi sicuramente per i fruitori dell'asilo, del giardino e dell'asilo. Quindi questo chiaramente dovremmo avere un po' di pazienza tutti, l'intervento appunto è necessario e inoltre ci sarà anche la chiusura per un periodo abbastanza lungo anche lì della pista ciclabile sotto, quindi sul livello del Bisenza e quindi anche quello sarà un grosso disagio. Tuttavia non c'è un altro modo per fare l'intervento in sicurezza. L'ammontare della cifra sarà oltre 300 mila euro però compresi anche gli interventi di riqualificazione. Rimaniamo in ambito interventi sulla città perché parliamo del nuovo piano operativo, il documento che disegnerà la Prato che sarà nei prossimi anni proprio dal punto di vista urbanistico e sono molti gli aspetti che interessano la quotidianità dei cittadini. Non si parla solo di grandi opere, si parla anche di come rialzare il piano della propria casa oppure come trasformare un piccolo laboratorio artigianale in un appartamento. Guardate. Piano operativo parte il rush finale prima dell'adozione definitiva. Il documento di sintesi che definisce le politiche di governo del territorio approderà in Consiglio Comunale il 17 settembre al termine di un lungo percorso partecipativo che ha visto l'amministrazione all'ascolto delle proposte di cittadini, associazioni e professionisti. L'adozione del piano operativo ex piano regolatore è preceduta da due settimane di discussione in commissione urbanistica dove saranno passati al vaglio i vari aspetti. Uno di questi tocca molto da vicino i cittadini nelle possibilità di intervento che essi stessi avranno sul territorio circostante e sulle loro proprietà. Un privato cittadino che ha bisogno di ristrutturare una propria abitazione magari la classe abitazione su due piani con la soffitta e ci vuole fare un appartamento in più per il proprio figlio può svuotarla e utilizzare il sottotetto e quindi spostando i solai viene fuori da due piani, tre piani. Chi si trova ad avere una baia d'era, come si dice a Prato, la casa ha un piano che è fra due case più alte potrà utilizzare la possibilità di fare un piano in più e quindi allinearsi in gronda agli edifici confinanti. Ci sarà la possibilità di utilizzare per esempio il piano operativo per trasformare i piccoli laboratori artigianali dietro casa o accanto a casa per farci l'appartamento per i figli, per i nipoti. Il nuovo piano operativo riserva un'attenzione particolare agli spazi verdi sia pubblici che privati. Rispetto al passato è aumentata la dotazione di verde nei parcheggi limitando nella loro realizzazione il consumo di suolo. Ogni cinque stalli c'è l'obbligo di farne uno verde alberato. Anche per le demolizioni di edifici residenziali e industriali è prevista una riduzione delle superfici edificate a favore di quelle scoperte dedicate al verde. Se si abbatta un edificio residenziale dovrà esserci almeno un 40% della superficie dovrà rimanere permeabile, scoperta. E di questo dovrà esserci un 30% da destinarsi a verde. A verde intendendo proprio alberatura. Quindi ci saranno alberi. Nel caso in cui invece si abbatta un edificio industriale il 60% dovrà essere scoperto. E anche qui dovrà esserci la percentuale riservata per il verde. E all'interno di quella al verde il 25% dovrà essere alberato. Ha creduto che due ragazzi pratesi di 18 anni lo stessero filmando col telefonino e li ha minacciati. Protagonista dell'aggressione, un 29enne italiano che a seguito del banale malinteso avvenuto ieri sera nei pressi della stazione di Borgo Nuovo ha tirato fuori anche un coltello. L'uomo è stato rintracciato poco dopo dalla polizia che ha sequestrato il coltello e denunciato il 29enne per minacce aggravate. Ancora a cronaca, ha sequestrato un laboratorio di confezioni cinese nel corso di un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi nel comune di Carmignano dagli ispettori dell'ASL nell'ambito del piano lavoro sicuro. All'interno della ditta sono state riscontrate condizioni di promiscuità tra gli ambienti di lavoro e di vita e violazioni alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'intero fabbricato versava in pessime condizioni igienico-sanitarie. I dormitori erano stati ricavati all'interno di locali soppalcati e realizzati abusivamente con materiali vari in presenza di un impianto elettrico fatiscente. Nel locale erano inoltre presenti servizi igienici impiegati come cucina e bombole di GPL, i regolari tre dei cinque lavoratori cinesi presenti nella ditta. Cambiamo decisamente argomento, sono 133 posti disponibili presso l'Arciconfraternita della Misericordia di Prato per il servizio civile nazionale. È uscito infatti il bando 2018, c'è anche una novità quest'anno perché non si tratta soltanto di trasporto socio-sanitario ma anche di effettuare attività di emergenza urgenza 118. Guardate. Un anno per mettersi in gioco all'interno della Misericordia ha aperto il bando 2018 per la selezione del servizio civile nazionale. L'Arciconfraternita Pratese partecipa anche quest'anno con tre progetti dedicati al trasporto sociale e per la prima volta quest'anno all'emergenza 118. Oltre alla sede centrale di via Galcianese sono coinvolte 20 confraternite presenti su tutto il territorio provinciale e nell'area metropolitana. 133 posti disponibili per tre progetti generazione solidale, itinerari di solidarietà e solidarietà on the road. 30 ore settimanali e un rimborso spesi di 433 euro mensili. Due volontari su tre tra coloro che hanno fatto questa esperienza si ritengono soddisfatti al punto da voler proseguire l'attività di volontario oltre la fine dell'anno di servizio civile. Noi facciamo parecchio sulle macchine, portiamo le persone a fare le visite, a fare fisioterapia e danno soddisfazioni perché alla fine di un percorso vedere una persona che non camminava alla fine di un percorso riesce a camminare, ad essere autosufficiente, autonoma, è una bella cosa. A lungo andare sono cose che ti formano a livello di carattere e di persona e credo di continuare a fare il volontario qui alla Misericordia. Il compito richiesto è quello di accompagnare anziani, malati e disabili in luoghi di cura, scuola o verso ambienti di lavoro e formazione. In più, vere e propria novità, prevista dal Bando 2018, i giovani saranno coinvolti in prima persona nel servizio di emergenza urgenza 118. Dà la possibilità ai ragazzi, naturalmente dopo un corso svolto qui all'interno della nostra associazione, di montare anche sui servizi di emergenza. I ragazzi servono, servono per la nostra associazione. Le ho visti veramente cambiare, ma non solo questo gruppo di ragazzi che è stato eccellente, ma anche quelli degli anni scorsi. È un valore aggiunto che poi va a aumentare il bagaglio di questi ragazzi professionalmente anche per un futuro lavorativo. Per partecipare al Bando occorre aver compiuto 18 anni e non aver superato il 28esimo anno di età. Le domande devono pervenire presso le sedi della Misericordia inserite nel progetto entro le ore 18 del 28 settembre 2018, se consegnate a mano. Per quelle via PEC, raccomandata entro le 23.59 del 28 settembre. Avevo finito la scuola e avevo visto il Bando per il servizio civile alla Misericordia e ho pensato che potrebbe essere un'opportunità per fare un'esperienza diversa dalle altre. Infatti è stata un'esperienza unica. È stato un anno fantastico, ormai quasi concluso. Ho iniziato anche un corso di BLS, di primo soccorso, per le ambulanze. Nel 2017 i protesti elevati in Toscana sono stati 27.069 per un importo totale di oltre 37 milioni di euro. Come accade ormai da qualche anno, spiega la Camera di Commercio Maremma e Tirreno che ha realizzato l'indagine attraverso il suo centro studi, risultano in netta diminuzione tendenziale sia il numero sia il valore. La flessione del numero degli effetti protestati è fenomeno comune a tutte e dieci le province toscane. Anche l'importo totale diminuisce ovunque, ad eccezione però di Prato e Arezzo. Nella nostra provincia si registra infatti un più 25%. Ancora a cronaca un parcheggio maldestro all'incrocio tra via Bologna e via Cerutti con l'auto lasciata ad intralciare il traffico ha spinto i poliziotti di una volante a controllare l'automobilista il quale al termine dei controlli, ieri sera poco dopo le 19.30, ha subito una grande quantità di sanzioni. L'uomo, un trentenne cinese, irregolare in Italia, era privo di patente e di copertura assicurativa. Nei suoi confronti, oltre alle multe, sono scattati il sequestro del veicolo e la denuncia per il reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano. Passiamo alla cultura. Ricorre domani il Sacco di Prato e nel monastero di San Vincenzo si celebra la ricorrenza del miracolo della Madonna dei Papalini. Domani al monastero dominicano di San Vincenzo si celebra la festa della Madonna dei Papalini una ricorrenza legata al Sacco di Prato del 1512 uno degli avvenimenti più cruenti della nostra storia che causò morti e violenze. Erano infatti gli anni dello scontro tra francesi e spagnoli questi ultimi alleati dello Stato Pontificio volevano riportare i medici al potere a Firenze l'esercito del vicere di Napoli Ramon de Cardona accompagnato dal cardinale Giovanni de Medici per dare una dimostrazione di forza assediò Prato che venne conquistata il 29 agosto 1512. Il saccheggio durò ben 22 giorni e provocò la morte di circa 6.000 persone molte altre subirono violenze o furono ridotte in prigionia. Dalle violenze non furono risparmiati nemmeno i monasteri ma a San Vincenzo successe una cosa incredibile tre capitani spagnoli una volta entrati nel monastero trovarono le suore raccolte in preghiera davanti a una statua della Madonna. Lì si soffermarono e caddero in ginocchio e giurarono alla priora che il monastero sarebbe stato rispettato e così è stato fatto. Quella statua da allora viene venerata come salvatrice del monastero. E anche quest'anno quindi come da tradizione si celebra la festa della Madonna dei Papalini. Domani alle 7.30 si recitano le lodi, alle 8 la messa celebrata da Don Daniele Scaccini, rettore del seminario. Nel pomeriggio e infine alle 18.30 Vespro solenne con la comunità monastica. La liturgia sarà animata dalle monache. Durante i festeggiamenti le immagini del crocifisso di Santa Caterina e della Madonna dei Papalini saranno esposte alla grata del monastero. E non manca molto all'inizio della scuola e intanto comincia a risolversi il rebus reggenze nelle scuole per i dirigenti scolastici. All'istituto comprensivo Margherita Hac di Montemurlo arriva la nuova reggente. Si tratta di Giovanna Annunziata, dirigente scolastico del convitto Cicognini di Prato dal 2016. La nomina ufficiale è arrivata dal MIUR dopo che nei giorni scorsi sia il sindaco di Montemurlo, Lorenzini, che l'assessore all'istruzione Rossella De Masi avevano espresso le loro preoccupazioni riguardo alla fase che sarebbe seguita al trasferimento del preside dell'istituto Paolo Calusi. Annunziata sarà per il Margherita Hac una reggente con incarico annuale da riconfermare al prossimo anno scolastico. Di fronte alla nomina del successore di Calusi, l'assessore De Masi rinnova l'auspicio che si possa dare adito ad una continuità di progetti e obiettivi. E ora invece torniamo ad un argomento che ha tenuto banco nelle scorse settimane, quello del Prato Calcio e dello stadio. Il Comune ha lavoro per riavere lo stadio Lungo Bisenzio. Al patron del Prato, Paolo Toccafondi, sarà presentata l'intimazione a lasciare la struttura. Per l'immediato futuro si va verso la gestione diretta o l'affidamento ad una partecipata. Il Comune sta lavorando per rientrare in possesso dello stadio Lungo Bisenzio. Nei prossimi giorni, al patron del Prato, Paolo Toccafondi, che il 20 agosto scorso ha preso tempo per liberare i locali e non ha riconsegnato le chiavi, sarà presentata l'intimazione a lasciare la struttura. I tecnici comunali che si sono occupati in passato dello stadio interverranno, probabilmente assieme alla Polizia Municipale, per effettuare una verifica e stilare un verbale sullo stato dei luoghi. La Giunta Comunale, che dopo il naufragio della cessione societaria all'avvocato canadese Joseph Romano, ha ingaggiato con la famiglia Toccafondi un braccio di ferro legale, con tanto di accuse e denunce penali incrociate, ritiene di poter riavere la disponibilità dello stadio senza ulteriori complicazioni. Non risulta infatti che il Prato abbia fatto un passo indietro sulla rinuncia alla gestione del Lungo Bisenzio, fatta per venire al Comune il 10 maggio scorso dopo la retrocessione in Serie D, e dunque non ci sarebbe alcun presupposto alla permanenza in pianta stabile del club nello stadio di Via Firenze. Le rimostranze della Ciprato non riguardano infatti la gestione dell'impianto, ma la revoca della disponibilità a poter giocare al Lungo Bisenzio, contro questo provvedimento del Comune, che ha portato al respingimento del ripescaggio in Lega Pro, il Prato ha fatto ricorso al Tar della Toscana, vedendosi al momento bloccare la richiesta di sospensiva in attesa dell'udienza del 12 settembre. Una volta che il Comune sarà entrato in possesso del bene, scatterà una gestione provvisoria. In attesa del bando per individuare un gestore, probabilmente per la stagione 2019-2020, il Comune potrebbe gestire direttamente lo stadio o affidarlo ad una società partecipata, affittando il campo e gli spazi alle squadre che ne facciano richiesta. È il momento della nostra agenda, diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti a Prato e dintorni. Domattina dalle 10 alla Biblioteca Lazzarini, lettura animata per bambini dal libro di Isabelle Grele, Il viaggio dell'asino. Alle 18 con ritrovo a Palazzo Datini, Prato nel Sacco, quarta edizione della passeggiata storico-culturale attraverso i luoghi simbolo del Sacco di Prato, con degustazione guidata e brindisi finale al Bastione delle Forche. Alle 21.15 al Giardino di Palazzo Bardi, a San Quirico di Vernio, proiezione del film Lion alla strada verso casa. Alle 21.30 al Castello dell'Imperatore, proiezione del film Tre Manifesti a Ibing, Missouri. Da domani a domenica 9 settembre, in Piazza Contardi a Montemurlo, 32esima edizione della Sagra dell'Uva, a cura della Misericordia di Montemurlo. Tutte le sere stand gastronomico, musica dal vivo e animazioni per bambini. E adesso le previsioni meteo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buonasera a tutti e ben trovati al consueto appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. L'immagine alle mie spalle ci mostra la circolazione a grande scala prevista per la giornata di domani. Ancora alta pressione sul Mediterraneo centrale, ma con una perturbazione che lentamente dall'Atlantico tende ad avvicinarsi alla nostra penisola. Andiamo pertanto a vedere il tempo previsto per la giornata di domani. Una giornata che inizia con cielo per lo più poco nuvoloso, con velature che si affacceranno sui settori più occidentali. Venti deboli, mari poco mossi, temperature minima e stazionario in lieve calo. Nel poveriggio cambia poco, cielo per lo più poco nuvoloso, per velature temporaneamente più consistenti. I venti sono deboli occidentali, mari poco mossi, temperature massime in salita fino a 32-34 gradi. Ancora bassi i tassi di umidità. Uno sguardo anche alla giornata di giovedì, che inizierà con un aumento delle nubi già in mattinata sui settori più occidentali. C'è la possibilità di qualche breve pioggia in prossimità delle afuane. Nel pomeriggio cielo per lo più nuvoloso, in particolare sui settori settentrionali. C'è la possibilità di qualche breve e debole precipitazione in prossimità dei rilievi. I venti deboli occidentali, poco mossi i mari, è previsto un calo di 2-3 gradi per quanto riguarda le temperature massime. È tutto, grazie per l'attenzione. Non ci sono aggiornamenti, l'informazione torna domani alle 13.45. Buona serata. Grazie. Grazie a tutti.